benvenuti al blog speciale scorn prima domanda di scorn ti piacciono le scorn verdure scorniciate e qualcuna sì tipo legumi rendicchie roba prossima domanda con scorni o scornuto è una malattia dei pirati sai dimmi i sintomi se se non li sai inventati vabbè non li so come mal di cura febbre tosse raffreddose scorni scorni terza domanda complimenti per il gameplay di tosse primo gioco di tipologia scorn like che che pensi del gioco è un bel gioco un gioco di una vicenda di una vicenda che che devi sparare le altre navicelle ed è del 2000 diciamo questo gioco è vecchio prossima domanda scorni leghi con voce diverso ogni volta scorni 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 prossima domanda scorni ha mai sentito parlare di scorni ti piacciono le scorni per due scorni c'è l'ho detto già prima che rubi le nicchie e roba vaghe scorni conosci lo scornuto è una malattia dei pirati in cui è una malattia dei pirati sai dimmi i sintomi se non risai mai mal di tosse morti con la tosse caffè dure e febbre scorni come vende per i game preditori in più con i giorni tipologia scorni che ne pensi del gioco è un bel gioco è è del 2002 Scorn Reghi con voce diverso ogni volta Scorn 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 Reghi con voce diverso ogni volta Scorn Scorn Scorn! 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 Sc